Ciao amici di viaggiare con lentezza, sono Inca e viaggio per il mondo quasi senza soldi. Oggi sono a Nuova Zelanda e ho una pianta che si può mangiare che ho trovato per la strada. La mangio qualche minuto dopo. Non adesso, ma è un solo momento per fare questo video. Questo è un segnale per te per iniziare a cambiare qualcosa nella tua vita già oggi. This is the sign for you. Per me viaggiare con lentezza e vivere senza stress e fare immersioni sia nelle persone o sia nei posti. Buona giornata a tutti voi e ci sentiamo presto. Spero che vi piaccia l'intervista. Ok, buona giornata. Ciao, un bacio.